Radicalità per ricostruire è la nuova area del PD, la cui nascita è stata ufficializzata nei giorni scorsi a Roma e fa capo a Giarni Cuperlo. Ora la nuova componente del Partito Democratico si organizza anche in Puglia e nel Salento. Il coordinamento regionale è stato affidato a Cinza di Corato, mentre quello della provincia di Lecce a Marco Marazzia, già componente della segreteria cittadina di Maurizio Deta. L'area è strutturata in tutta la regione e gli altri coordinatori provinciali sono pronti a far rete per condividere quelle che sono le idee non di una corrente del Partito Democratico, ma di una realtà work in progress di progettazione e cultura, di una nuova sinistra. A un anno esatto dall'uscita del documento politico programmatico sulla radicalità promosso da Giarni Cuperlo, si è costituita all'interno del Partito Democratico l'area tematica Radicalità per ricostruire. Come area ci proponiamo di essere un laboratorio di progettazione e di cultura di una nuova sinistra che attraverso un rinnovato senso critico rimette al centro della sua azione i temi del lavoro, della giustizia sociale e dell'ambiente. Tema quest'ultimo particolarmente importante per il nostro territorio, visti i fatti che la cronaca quotidianamente ci restituisce. Per fare questo però siamo consapevoli che sia necessario ritornare a dialogare costantemente con i mondi del sindacato, del terzo settore, dell'associazionismo e della società civile. Per questo da settembre partiranno le agora, strumento lanciato dal nostro segretario nazionale Letta, ma anche una serie di incontri tematici su tutto il territorio provinciale. Grazie!